Rieccoci, rieccoci in diretta, ho aggiunto altri due ospiti, li vado a salutare, li vedo collegati via Skype, Alessandro Giudice, ciao Alessandro, bentrovato. Ciao, buonasera. E un saluto anche a Leonardo Martinelli, ciao Leonardo. Ciao. Con una faccia molto cupa, l'avvocato Gerenzani in studio è qui pronto, non so se a difendere il Milan o a scagliarsi contro questa situazione. Dimmi, dimmi Leo. Quando mi saluterai, quando mi saluterai, quando finirò, farò una battuta che ti farà capire quanto poco sono, come dire, con la faccia scura. Farò una battuta che potrebbe essere di buon augurio per il prossimo futuro del Milan. Allora, devo fare una cosa, però oggi pomeriggio il nostro Michael Cuomo, prima di iniziare parto da Michael, perché Michael pomeriggio ha seguito, è andato a casa Milan, ha seguito da vicino tutta la vicenda, quindi ci ha fatto una sintesi, magari qualcuno si è perso qualche piccolo dettaglio nel corso della giornata. Michael Cuomo sintetizza tutto direttamente da casa Milan e poi apriamo il dibattito in studio. Sentiamo Michael però prima. Sono circa le ore 16 quando l'edizione online di Repubblica riferisce di perquisizioni a casa Milan da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Poco dopo il Corriere della Sera rilancia. Sono finiti nel registro degli indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazzidis, attuale e precedente amministratore e delegato del club, che, stando alle indagini condotte dal PM Giovanni Polizzi, si sospetta abbiano stacolato l'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza per le comunicazioni alla Federazione Italiana Gioco Calcio sui reali titolari della società. L'ipotesi è che il Milan non appartenga davvero al fondo americano Redbird con a capo Jerry Cardinale che nell'agosto 2022 avrebbe acquisito il club per oltre un miliardo dal fondo Elliot con a capo Paul Singer che a sua volta aveva prestato 560 milioni a un tasso del 7% a titolo di vendor loan. Secondo l'indagine una vendita simulata è la reale proprietà nascosta con il Milan che sarebbe stato e sarebbe tuttora di proprietà di Elliot. Lo scenario, se rafforzato dagli esiti delle perquisizioni odierne, si parla di telefoni e computer sequestrati, porterebbe il Milan anche incontro a violazioni normative FIGC e del regolamento UEFA. Una prima nota del club nel tardo pomeriggio parla di società estranea al procedimento in corso che sta prestando piena collaborazione all'autorità inquirente. A voi. Michael è stato perfetto nella sua sintesi. Io apro il dibattito in studio facendovi vedere in primis quello che è stato l'articolo del Corriere della Sera del collega Luigi Ferrarella è arrivato intorno alle 16.30-17. Lo vediamo insieme. Indagati, Furlani e Gazzidis. La società è ancora di Elliot. Questa è l'accusa. Ci sono state perquisizioni in sede. La Guardia di Finanza ovviamente ha a disposizione tanto materiale dai telefoni, documenti vari sequestrati. Quindi aspettiamoci anche dell'altro nelle prossime ore. Adesso andremo ad analizzare pezzo per pezzo, passo per passo quello che scrive il Corriere della Sera. E non solo, però faccio prima un giro in studio. Vengo da te, Gabriele. Ma diciamo che non mi stupisco che sia successo quello che Mike ha così tratteggiato sinteticamente. Perché purtroppo c'era già un esposto che era stato depositato da Cerchione, l'altro socio della società Blue Sky che aveva delle quote di minoranza del Milan al momento della cessione di Redbird a Redbird da parte del fondo Elliot e che avevano già intentato delle vertenze civili che mi pare siano state tutte definite positivamente almeno per ora quindi positivamente per il fondo Elliot nei confronti delle quali queste cause erano state promosse. Quindi il clamore mediatico è ovvio che non può che essere notevole perché insomma che ti arrivi la Guardia di Finanza nella sede legale non è mai piacevole, non è mai il massimo. Diciamo che adesso prima di stracciarci le vesti è giusto che si facciano i dovuti approfondimenti anche perché qui le ipotesi di reato sarebbero avanzate nei confronti dei due amministratori la quale è il precedente di Furlan e Furlan quindi qui la responsabilità penale e personale presunta responsabilità si tratterebbe di un reato societario ipotizzato rispetto appunto a un presunto ostacolo l'autorità di vigilanza che nella fattispecie è la Coviso che è la commissione di vigilanza sulle società professionistiche di calcio che svolge questa attività per conto della FIGC quindi questo è il quadro in cui ci si muove. Siccome la Coviso che è un'autorità di vigilanza così come lo è la Consob per le società quotate in borsa e la Banca d'Italia rispetto alle banche esiste nella nostra normativa penale un'ipotesi di reato societario che configura un reato proprio cioè presuppone che chi l'abbia commesso svolga dei ruoli apicali cioè di vertice e nelle società di capitali abbia il potere di firma. Però tecnicamente ecco poi non voglio tediarvi comunque era per darvi il quadro. No 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 perché poi voglio analizzare punto per punto tutti gli elementi che abbiamo a nostra disposizione ho preparato anche delle grafiche per spiegare anche un po' la situazione e capire anche che cosa è successo in tutti questi anni nel Milan dall'addio di Silvio Berlusconi fino ad oggi però faccio prima un giro dello studio anzi vado da Leonardo e poi sento gli altri in studio ecco Leonardo è una notizia che ti ha colto di sorpresa quella di oggi pomeriggio o in un certo qual modo te lo aspettavi anche tu sei un assiduo frequentatore delle nostre trasmissioni noi più volte avevamo parlato di questa operazione strana di questo passaggio di proprietà strano tra da Elliot a Redbird guarda come tu sai io da maggio 2022 difficilmente esco della trasmissione senza aver detto l'hashtag Elliot Out difficilmente quindi non mi meraviglia niente sabato scorso ho registrato un video e questo video si intitolava oh manco farlo apposta chi è il proprietario del Milan ma forse tu già sapevi qualcosa no io non sapevo niente forse è il giornalista che sapeva qualcosa del Corriere perché anche lì è un po' strana la cosa che mentre è in corso la visita della Guardia di Finanza a casa Milan mentre è in corso il giornalista se ne esce con tutti i dettagli quindi solito giochetto all'italiana che prima lo sanno i giornalisti e poi lo sanno gli interessati ma questo è un malvezzo italiano che prima o poi bisognerebbe indagare anche questo ma non è questo l'argomento che interessa gli ascoltatori l'argomento che interessa gli ascoltatori è qual è il reato? ci stiamo veramente meravigliando che Elliot abbia una grande influenza sul Milan ancora oggi, su Redbird c'era scritto quando hanno fatto il deal c'era scritto parte una partnership tra Elliot e Redbird qual è il problema? la Covisoc ma cosa deve fare la Covisoc? la Covisoc è lì per capire chi è il proprietario del Milan o è lì per verificare i conti delle trimestrali, delle semestrali, dei bilanci è lì per quello la Covisoc a verificare i numeri a verificare i conti la veridicità e non uso così tanto per usarlo questa parola la veridicità dei numeri non chi sia o non sia proprietario quindi è vero che questo passaggio di proprietà non è stato il massimo della trasparenza sì ma che sia non legale no assolutamente no state tranquilli non è questo il problema non è questo il problema faccio un giro di tutto lo studio poi vado anche da Alessandro Giudice perché da casa probabilmente si staranno chiedendo cosa rischia il Milan in questo momento il tifoso che ci guarda vuole sapere questo non tanto quello che è successo nel pomeriggio a che ora è arrivata la guardia di finanza che cosa ha sequestrato eccetera eccetera il tifoso vuole sapere ma il Milan che cosa rischia dopo ne parleremo però un giro di tutto lo studio Luca poi il prof Pisani poi Fabrizio allora stasera l'argomento è difficile mentre se parliamo di calcio chi più chi meno in Italia siamo 60 milioni di allenatori quindi chi più chi meno possiamo diciamo metterci lì a parlare di calcio stasera l'argomento andrà su dei binari giuridici dove sinceramente non mi sento troppo deputato a parlare quindi ascolterò molto volentieri l'avvocato Gerenzani dopo avremo un giudice quindi chi ne sa più di me ho ascoltato con interesse quello che ha detto Martinelli che ha parlato di passaggio di proprietà che a suo dire pensa che non sia un passaggio di proprietà però ti correggo giudice di nome non di fatto è un giornalista è un giornalista ah no scusami pensavo che avessimo un giudice no 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 Alessandro Giudice è un collega chiedo scusa pensavo che avessimo era simpatica era simpatica perché vedevo sorridere anche Alessandro chiedo scusa pensavo che avessimo pensavo che avessimo un giudice collegato quindi sarebbe sarebbe magnifico sarebbe stato magnifico infatti ha detto chi è meglio di lui è bene possiamo fare direttamente il processo siamo posti no vai 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 no ha ascoltato Martinelli che diceva che secondo lui non è un'operazione magari non troppo limpida da capire però secondo lui non c'è niente di illegale Martinelli è da un anno che è il più grande sputtanatore dell'Inter quando parliamo di bilanci e si permette di dire che l'Inter in tante cose dovrebbero guardare qui dovrebbero guardare là lui sa tutto dei nostri bilanci sentenzia sui nostri bilanci poi il karma ha fatto un bel giro e oggi viene qui moggio moggio con le orecchie basse a parlare che la guardia di finanza è venuta a casa dovresti chiedere innanzitutto scusa ai tifosi dell'Inter che è un anno che sentenzia a casa nostra è un anno che sentenzia a casa nostra è un anno che sentenzia a casa nostra e il karma l'ha fatto il giro l'ha fatto il giro e adesso vieni qui con le orecchie basse vieni ah ma forse non lo so forse hai parlato per un anno di chiedi scusa chiedi scusa e pensa a casa tua e pensa a casa tua che io stasera non vengo a parlare di voi perché non sono competente di parlare di cose giuridiche di quello che è successo oggi non sono competente e non ne parlo te è un anno che parli dei conti dell'Inter ma cosa sai dei conti dell'Inter e viene a sentenziale e viene a sentenziale aveva sto all'interno Luca Mastrangelo aspetta aspetta Martinelli aspetta Martinelli aspetta un attimo no ragazzi sono pubblici però i conti aspettate aspettate un attimo non si può iscrivere al campionato non è giusto che sia iscritta ti fermo ti fermo Luca pensa a casa tua poi parla dell'Inter Luca mi si è illuminato il telefono abbiamo un virgolettato Elliot ripreso dall'Ansa anzi un virgolettato che arriva dall'Ansa ve lo leggo perché adesso è stato ripreso anche da tutti i siti lo vediamo da Milan News perché vi dicevo questa serata va così mi arrivano continuamente aggiornamenti quindi priorità alle notizie poi il dibattito bello acceso mi piace sempre piace anche agli amici da casa questo è il virgolettato nessuna partecipazione azionaria o controllo sul Milan virgolettato di Elliot adesso vi leggo nel dettaglio prendiamo atto alle 20.47 arriva quindi 5 minuti fa di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l'attuale e l'ex amministratore delegato del Milan in relazione all'accusa secondo cui il club appartiene ancora a Elliot e che questo è stato nascosto alla Federcalcio questa accusa è falsa il Milan è stato venduto a Redbird il 31 agosto 2022 a partire da quella data Elliot non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo sulla C-Milan questa è la dichiarazione del portavoce di Elliot riguardo appunto il passaggio di proprietà del club rosso-nero adesso arrivo sia da Daniel che da Fabrizio però voglio andare prima da Alessandro cerchiamo anche di far chiarezza in maniera molto semplice per gli amici da casa su quello che sta succedendo in casa Milan e soprattutto ritorno sull'interrogativo che ponevo prima cosa rischia il Milan perché il tifoso vuole sapere questo ad oggi il Milan da quello che si apprende non risulta indagato come società perché sapete che in Italia si possono indagare le persone si possono indagare le società risulterebbero indagati uso il condizionale perché ancora qui non c'è nessun atto di accusa ci sono solo delle perquisizioni risulterebbero indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis cioè l'attuale e l'ex amministratore delegato del Milan di che cosa risulterebbero indagati sembra si parla di ostacolo alla vigilanza della Federazione Italiana a gioco calcio ora la Federazione Italiana a gioco calcio c'è un articolo del codice civile che prevede il reato di ostacolo alla vigilanza ma in quel caso l'ostacolo alla vigilanza riguarda istituzioni pubbliche come Consob e Banca d'Italia la Federazione Italiana a gioco calcio credo a mia memoria sia la prima volta che sento che esiste il reato di ostacolo all'attività della Federazione Italiana a gioco calcio cioè secondo questa accusa se la interpreto così Furlani e Gazidis nella loro posizione di amministratore delegato perché ricordiamo sono indagati nella loro posizione la loro qualità di rappresentanti legali del club cioè di persone deputate a fare le comunicazioni della FIGG non avrebbero non si sarebbero diciamo autodenunciati cioè non avrebbero detto guardate che il vero proprietario del Milan è Elliot non è Redbird peraltro una questione che non si capisce come dovrebbe riguardare il Milan perché in realtà se io vi faccio un esempio oggi il Manchester United che è una società quotata alla borsa di New York e che ha come primo azionista la famiglia Glazer che ha ceduto una quota azionaria a Gilles il proprietario di Neos un conglomerato inglese ha ceduto una quota del 25% nel patto tra Glazer e Redcliffe il patto che hanno stipulato prevede che Redcliffe abbia il controllo operativo del club che prenda tutte le decisioni con il 25% nonostante Glazer abbia ancora mantenga una quota maggiore e poi ci sono tante altre quote evidentemente in mano ai piccoli azionisti ora se io vi facessi la domanda chi è il proprietario del Manchester United voi cosa rispondereste il proprietario è Glazer perché ha la maggioranza delle azioni il proprietario è Redcliffe perché è una è una diciamo ha il controllo operativo cioè mi sembra una questione sia il proprietario di una società che non è quotata ripeto che non è soggetta ai controlli pubblici mi sembra una questione abbastanza strana abbastanza abbastanza bizzarra più una questione di rapporti tra le parti cioè tra chi ha azionato questa causa cioè Blue Sky e gli azionisti vecchi che hanno ceduto ma sinceramente responsabilità penali poi saranno bisognerà vedere se emergeranno alla tua domanda cosa rischia il Milan se io dovessi dire alla luce di quello che vedo che sento che ho detto potrei dire nulla però poi vi staremo a vedere perfetto Alessandro io ti saluto e ti ringrazio grazie buona serata voglio sentire poi torno da Leonardo che mi sembra bello carico però anche Fabrizio e il prof Pisani Fabrizio ecco vengo da te un commento a tutta la vicenda da spettatore esterno fondamentalmente no anche da spettatore interessato quello che mi sembra allora innanzitutto i due legali hanno spiegato in maniera molto corretta quali sono i profili degli illeciti ok presunti dei presunti illeciti ok ci sono due procuratori che stanno indagando su quattro persone su quattro persone fisiche perché poi come è stato detto la responsabilità penale è personale quindi sono quattro persone che eventualmente il personale però potrebbe essere anche societaria in base alla legge 231 esatto quindi ci potrebbe essere scusa se esemplifico però qui il reato sarebbe a carico solo dei due amministratori con potere di firma quindi due figure di vertice della società precedente e successiva perfetto quindi noi abbiamo un versante di responsabilità personale e anche una possibilità di responsabilità oggettiva quindi in cui risponderebbe una società quindi una persona giuridica e non una persona fisica scusate se lo dico perché ho fatto qualche studio anch'io ogni tanto i diritti ma non per dire questo cioè mi sembra che la cosa interessante sia capire se c'è stata una finta cessione del Milan cioè io credo che a casa siano interessati a sapere di chi è il Milan come diceva prima giustamente Martinelli per capire se questa proprietà in questo momento è di un soggetto che sappiamo essere proprietario che ha un nome o un cognome oppure no perché se non è lui il proprietario la cessione è stata finta ed è questo che potrebbe scatenare oltre a tutto ma il discorso è che si parte proprio da qui non a caso la smentita di Elliot di dieci minuti fa fa riferimento a quel punto l'accusa è falsa loro ti dicono che il Milan è stato venduto a Redbird il 31 agosto del 2022 a partire da quella data noi non abbiamo più voce in capitolo quindi Elliot dice no la cessione non è finta il problema è che stanno i procuratori e quindi i magistrati requirenti stanno verificando se questi capitali di cui è oggetto la compravenita è il Milan siano stati correttamente trasferiti oppure no tra l'altro gli indagati sono quattro e se non mi sbaglio avvocato ci sono due soggetti che sono amministratori di società lussemburghesi per cui ci sarebbe anche probabilmente come si diceva prima uno scandalo per quello che riguarda i fondi cioè i soldi con cui il Milan sia stato comprato o meno quindi è questo che piano piano il giudice però non noi qui che possiamo dire la qualsiasi andrà a darci una notizia certa o incerta per quello che riguarda la situazione è chiaro tu mi dici io sono esterno io sono un esterno interessato e mi spiace che il Milan abbia questo problema mi spiace tantissimo mi potrebbe dispiacere anche dei problemi della Juve dell'anno scorso o magari è una fortuna ma esatto quello che voglio dire è proprio questo se oggi noi riuscissimo a capire di chi è la proprietà in Milan o di chi sarà in Milan con una formula certa potrebbe essere un qualcosa di bene augurante l'hai detto tu non è questo ti spiego aspetta aspetta un attimo saluto anche Cristiano Ruiu che vedo collegato ciao Cristiano ben trovato saluti saluti a tutti come va? bene chiedilo ai milanissi che ho qui a Gerenzani e a Martinelli non a me guarda lo dico a tutti e due e lo dico anche a me stesso io penso che facendo chiarezza una volta per tutte questo è il mio sogno da milanista innanzitutto da innamorato dalla nascita di questi colori e da giornalista in secondo luogo io credo che facendo chiarezza una volta per tutte possiamo allora sì sognare un futuro come è stato il passato che al quale si può arrivare non con i soldi degli arabi dei quali non me ne frega niente ma con la chiarezza che la chiarezza non significa che quello che è successo oggi designi dei colpevoli no sentivo prima che parlavate in studio c'è c'è stata una perquisizione della guardia di finanza perquisizione nell'abitazione private sequestri di di telefono di computer non sono mai cose gradevoli però da qua a dire che c'è un colpevole che c'è un reato ce ne passa da qua a dire con certezza che il Milan non sia mai stato venduto a Redbird ce ne passa ma io credo che in questi anni i tifosi del Milan non hanno mai avuto chiarezza cioè da dopo l'accessione del Milan da parte di Fininvest i tifosi del Milan la chiarezza non l'hanno mai avuta perché la proprietà di Yongong Lee non era chiara e ci sono state indagini della procura di Milano dell'UEFA meno della Federcalcio il passaggio a Elliott non è stato chiaro il passaggio a Redbird non è stato chiaro io credo che i tifosi del Milan prima ancora di avere un futuro ricco si meriti in un futuro chiaro una volta per tutte questo è il mio sogno e secondo me non ci siamo lontani allora Cristiano faccio finire Leonardo perché poi lo devo salutare poi voglio sentire anche Daniel in studio che non ha ancora parlato poi andiamo avanti noi e un sacco di materiale da mostrarvi e da condividere anche con i nostri telespettatori però Leonardo ti faccio concludere volevo solo dire questo leggendo tutta come si è lì parlata la storia che è anche abbastanza ridicola da un punto di vista perché sembra che uno degli elementi in mano sia una slide fatta durante una presentazione a investitori arabi questo è il materiale probatorio ma comunque al di là di quello la notizia che però viene sminuita ma che fino a ieri è stata schernita da casa Milan e che il Milan era in ballo per essere venduto questo viene fuori chiaramente si parla di percentuali che Elliot che Redbird sarebbe sceso al 52% che sarebbero state assorbite le quote di Elliot e che poi piano piano si sarebbe concretizzato il passaggio complessi totale a favore di Arabi se ti ricorderai quante volte abbiamo parlato di due diligence quante volte abbiamo parlato di incontri di due fonti arabi e da casa Milan ci ha sempre detto ma voi vi inventate assolutamente no Cardinale ha un respiro di molti anni e quello lì il concetto è quello lo stadio tutte ste balle qua tutte ste robe qua invece c'è un documento che certifica questo che adesso quello che io mi auguro che questo può essere un colpo di fortuna a meno che qualcuno l'abbia sollecitato questo colpo di fortuna io ti dico solo una cosa che io stasera per cena volevo stare leggero mi sono mangiato un po' di datteri ecco per cominciare ad abituarmi posso farti una domanda Leonardo? sì un attimo Federico perché ha sollevato adesso Leo un tema che diciamo lui l'ha sollevato con la chiamerei io una malizia imprenditoriale che ovviamente è propria di chi sta in mondi tipo questo a tanti anni come appunto Leonardo ecco di solito queste cose non accadono mai per caso e spesso e volentieri spesso e volentieri l'esempio più clamoroso è la storia del calcio italiano e calciopoli spesso e volentieri finiscono nell'occhio del ciclone a livello anche giudiziario proprio coloro che devono essere diciamo rimossi e quindi c'è sempre la sensazione e il sospetto che queste cose non accadono mai per caso a te sembra che sia questo lo scenario la pensi come me no allora la pensi come me devo stare attento a misurare le parole perché poi sai qui è un attimo che qualcuno che cos'ha in mano Leonardo mandarino ma non erano i datteri scusa prima i datteri ma erano e poi pulersi la bocca al mandarino allora volevo dire volevo dire più importante del mio mandarino però questa potenziale vendita no questa voluta vendita aveva un ostacolo nella presenza ancora pesante in percentuale nell'azionariato in percentuale importante e dichiarata del vecchio proprietario no e questo creava un po' un ostacolo questo vecchio proprietario a cui comunque nel 2025 bisogna anche ridare un sacco di soldi e oggi questo vecchio proprietario finisce un po' nell'occhio del ciclone io a me hanno insegnato questo nelle prime lezioni di economia andate sempre a vedere a chi giova lo dicevano già i romani cui prodest e voi andate a fare andate a fare quest'analisi e chissà ci sono tante opzioni e magari qualcuno la può anche indovinare l'opzione ti saluto così allora Leonardo ciao grazie Leonardo Martirelli volevo sentire però anche il prof Pisani che non è ancora intervenuto ma allora al di là degli aspetti giuridici che io non conosco quindi assolutamente non è per per mettere le mani avanti ma preferisco non entrare in un campo che non mi compete al di là del fatto di chi a chi possa giovare ricordando la storia antica in questo caso Gabriele che tu sei un grande latinista io ti rispondo dicendo che la vita in questo caso preferisco capirla all'indietro che non viverla in avanti come diceva il grande Kierkegaard perché rischio veramente di finire un campo minato preferisco invece guardare dal punto di vista diciamo così di una vita parallela perché adesso sicuramente si scateneranno gli sciacalli si scatenerà un campionato nel campionato che non sarà giocato con una sfera non sarà giocato su un campo di calcio ma sarà discorso a partire dai bar fino anche ai dibattiti che facciamo noi praticamente immagini un po' che il Milan possa rivivere tutto il momento quello che ha passato la Juventus l'anno scorso poi non c'entrano niente le cose lo so però a livello anche di ecomedia stai tranquillo comendatore Pisani che non è questo lo scenario siamo proprio tranquilli allora adesso Cristiano volevo finire però sono velocissimo te lo prometto però se no passa un messaggio sbagliato poiché io credo anche che non bisogna fare agli altri quello che è stato fatto a noi e mi ricordo benissimo che la Juve praticamente quando ha subito un processo prima ancora che il processo venisse fatto lo ha subito in modo sommario a livello mediatico e siamo probabilmente andati in Serie B due volte non una volta sola ecco io adesso ovviamente non mi permetto e cerco unicamente di capire ben consapevole però che inevitabilmente il calcio è fatto anche di queste sfaccettature scusami Cristiano ti rispondo su questa cosa e volevo togliere il timore a te e ai tifosi del Milan aspetta devo andare in pubblicità riparto da te tra pochissimo e poi ho detto abbiamo preparato una sorta di docu materiale docu film su tutto quello che è successo al Milan in questi anni una storia che tu conosci benissimo Cristiano perché hai seguito anche con interesse da vicino poi il primo passaggio di proprietà io non la conosco benissimo io ho provato fin dall'inizio da prima che iniziasse questa storia dei tempi di Be Touchable ho provato faticosamente grazie all'indipendenza di Fabio Ravezzani e di questi emittenti ad aprire gli occhi alla gente e sono stato tacciato io di antimilanismo io esattamente come ho sentito dire ovviamente facendo debiti e proporzioni molto molto più grandi di me che gente come Zvonimir Boban come Paolo Maldini non faceva gli interessi del Milan gente come Zvonimir Boban Paolo Maldini non faceva gli interessi del Milan e questi due sono stati licenziati rispettivamente da Gazzini e da Furlani vado in pubblicità riparto da te tra pochissimo restate con noi